Salve ragazzi, sono sempre io, Lightmotion97, oggi continuiamo la nostra avventura di Minecraft in modalità estreme, ok, eccoci qua, ah si, eravamo mandati a prendere del ferro, non hanno voluto rischiare più di tanto perché non è che c'è un'armatura estremamente patente, sono venuto via nida insomma, mmm, c'ho voglia di andare nelle caverne, non ci sono, ma vabbè, croce cielo, questo mi serve, questo lo lascio qui, questo non mi serve, questo non mi serve, questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve, mmm, fammi prendere un altro po' di ferro, questo costruisco, no, piccoli ce l'ho abbastanza, vabbè, così potrebbe andare, dobbiamo cercare una caverna decente, piccoli ce l'ho, altri due si, buono, si come facciamo male, iii, dolore, 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 che dolore, ma orco che è, ok, ma dobbiamo cercare una caverna decente, se no ce la costruiamo sotto casa, ok, come potete vedere questa si che è una parte, ed è già finita, figa no? trucchetta, no, no, trucchetta, 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 no, no, ecco che mi sono dimenticato la pare, trucchetta, trucchetta, ok, aspettate, qua non ci sta un un picco secco, un sacco picco, mi servono le pare, qui ci metto una torce, oh, che laggata tremenda, ok, così mi ricordo dove sta, corre, 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 un buono, sto panino con la porcetta, oh, ma, ecco, c'è un'altra di spada, ah, sapete che, faccio, le faccio, le faccio con una di pietra, uno, due, eh, di questa, facciamo così, non dovete ma rendete conto porco che ok ah si mannaggia non lo so perché ma sono dono jam 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 oh num Allora Palli in mano No che cribbio fatto Dicono che se scavi dove ci sta la terra travi di sicuro qualcosa Io sinceramente non lo so Se è vero o come C'è un treno alla torcia Cosa buona e giusta M'è un treno M'è un treno M'è un treno M'è un treno La torcia Ma che ho capito Mi sa che con questa puntata non faremo un sacco picco Perché Io mi giaccio sonno Ok Mamma Facciamo un sotto casa ma una caverna che bella foresta che ho creato, bellissima ok io la farei qui metterai una torcia qui, e una torcia qui mi si ha rotto i piccoli piedi tu che l'hai laggata, ma perchè faccio sta laggata tremendo, sta laggata tremendo ok entriamo bello ti so il pentaccio brutto bagage, vieni qui muori bastardo muori mangro becco bravo crepa si dovete metterci un pochino di torcia non è sembrata una buona idea ok qua ci servono delle scale professionali e qua ci dovrei fare una bella lenta ok ok bellissima questa e se questo corre un attimo quando sta il video se già tanto dobbiamo sbrigarci che manca 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 vedete che vi dico sto per il video e vengo subito ok lì eccoci ehm sono andato un pochino avanti così il video non si allungava troppo tanto mi sto fatto come potete vedere una scala che va dalla dalla fino a qua dalla fino a qua così 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 e arriva fino a qui intendoci metto con le torce ok un buon modo una buona strategia per fare le scale mi sembra un buon modo una buon modo una buon modo una buon modo una buona come potete vedere siamo arrivati qui in fondo aia non mi piace non mi piace quel buco nero non mi piace per niente la starda subito luce per ricordarmi che è qui l'entrata però metterà tanta luce tante luce tante luce vediamo quanto è brutta l'acqua qua no no oh finalmente spero di trovare del ponte diamante almeno senti c'è degli zombie ecco uno infatti ciao brutto muori 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 mi farebbe una bella sciadina un po' un po' un po' un po' un po' un po' questo tanto ci prendiamo sarà più da pislato spero di non perdermi ma nel dubbio anche lì ok siamo presi con la nostra lapis lazuli della nostra redstone con la fredda piastata ok e andare a vedere un pochino in giro aspettate un attimo ritorno subito ecco qua da vedere la luminosità eccetera eccetera ok 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 così dovevo creare clic via finito o no ok ok mi sta importando mi sto spaventando oh, questa lava mi spaventa a crepa pelle ci prendiamo tutta questa redstone ok deve bloccare l'acqua oh libertè non da redstone ma mai così tanto diamanti ma mai oro vedo dell'or me lo vado a picchiare ok ragazzi direi che per questo episodio è tutto ci vediamo alla prossima con il continuo delle con il continuo dell'avventura della caverna ci vediamo alla prossima ciao ciao